Non c'è pace per il porto di Salerno in attesa che l'incontro già in programma il prossimo 16 maggio con la Capitaneria di Porto e gli autotrasportatori possa scongiurare il paventato blocco proclamato dalla FAI che ha deciso di bloccare i camion per quattro giorni dal 21 al 25 maggio contro il traffico nello scalo commerciale e le decisioni assunte di recente per regolamentarlo. Oggi anche lo scalo salernitano è stato interessato dallo sciopero per 24 ore dei lavoratori portuali e marittimi, sciopero che ha interessato tutti i porti d'Italia. L'agitazione infatti è stata proclamata dai sindacati contro la crescente diffusione dell'autoproduzione tramite la quale le compagnie fanno svolgere ai lavoratori marittimi le operazioni dei carichi a bordo delle navi, di attività che invece competerebbe ai lavoratori delle compagnie portuali per risparmiare tempo e costo della mano d'opera a terra. A Salerno all'agitazione si è accompagnato un incontro presso la sede dell'autorità portuale di Salerno nel corso della quale si è discusso anche della sicurezza all'interno del porto di Salerno. Sì, l'autoproduzione è una conseguenza anche della sicurezza perché questi grandi imprenditori sponsorizzando, cacciando, investendo diminuiscono i loro soldi sul personale e quindi il personale non è professionale come potrebbe essere, anzi come lo è l'articolo 17 che è nel porto di Salerno oppure negli altri porti a livello nazionale. Quindi monopolizzando si crea anche questo problema della sicurezza che è un problema prioritario. Questa è stata comunque una preoccupazione che è sorta fin dal primo momento. Ad ogni modo noi comunque ci stiamo impegnando come organizzazioni sindacali di trovare comunque una soluzione per cercare di rendere il lavoro e la viabilità il più leggero possibile per la città. Questo show proclamato dagli autotrasportatori io lo ritengo anche giusto ma noi come organizzazioni sindacali monitoreremo la situazione per cercare di creare minori disagi possibili sia all'interno del porto che all'esterno.